Che cos'è il white paper del calcio inglese della Premier League? Si tratta di una riforma legislativa del governo inglese in corso di approvazione, la procedura è ancora aperta, che intanto riconosce l'industria del calcio come un'industria fondante, importante del paese, come un ramo dell'economia da disciplinare nell'interesse collettivo e stabilisce appunto alcune novità veramente importanti. Si tratta di una riforma che è stata portata avanti dal governo insieme alla Football Association e ai tifosi, sostanzialmente escludendo un po' i club. Ed infatti non tutti i club, soprattutto quelli di Premier League, sono completamente d'accordo sul tenore e il contenuto schematico di questa riforma che sta prendendo piede. Ma si tratta di una novità epocale che può cambiare il calcio inglese e di conseguenza quello europeo. Innanzitutto viene introdotto un organismo autonomo di garanzia che andrà a valutare i requisiti economico-aziendali, economico-finanziari dei proprietari e dei dirigenti dei club, per evitare che ci sia l'interesse esclusivo al profitto, mettendo in secondo piano l'interesse sportivo a portare avanti un progetto pluriennale. In questo senso si passerà costantemente attraverso il volere dei tifosi per quelle che sono le modifiche più impattanti dell'aspetto dei club, delle caratteristiche fondamentali come il logo, i colori sociali e la sede sociale, quindi dove si giocano le partite. Questo per stabilire un criterio gerarchico. Le società di calcio, le squadre di calcio appartengono ai tifosi e al territorio, non ai proprietari che sono solo di passaggio. Quindi una caratterizzazione molto peculiare che potrebbe anche non essere del tutto in linea con il diritto europeo, ma d'altra parte sappiamo che il Regno Unito fa storia a sé da questo punto di vista, per cui si comprime la libertà negoziale, si comprime la libertà di impresa in favore di altri benefici e di altri interessi. Ci sarà poi una clausola sostanzialmente anti-Superlega, cioè una clausola che è molto ampia, impedirà ai club inglesi, non solo quelli di Premier, di sviluppare e partecipare a competizioni che sono al di fuori di quelle già esistenti. Quindi di organizzarsi autonomamente per farsene delle altre. Una clausola che è stata letta specificamente come clausola anti-Superlega, ma che in generale vuole evitare qualunque altro tipo di deriva. Quindi maggiore rappresentatività per i tifosi, evitare i fallimenti finanziari o comunque scongiurarli, rigorosi controlli finanziari da parte di questo organismo indipendente e anche una redistribuzione degli utili verso il basso per finanziare lo sport di base, il calcio di base. Ecco, su questo c'è una comprensibile ritrosia, un po' di dissenso da parte dei club di Premier, in particolare perché sarebbero chiamati a sborsare più di ora e più degli altri per sostenere le leghe inferiori. Ma per quello che guadagna la Premier League, in termini anche solo di diritti TV e di sponsor, non dovrebbe essere un sacrificio impossibile. E questo naturalmente serve per fini solidaristici e quindi per sostenere tutta la struttura, tutto l'impianto del calcio inglese, che è già potentissimo, che è già fortissimo e con questa riforma potrebbe solo che rafforzarsi. Anche se giustamente si fa notare che i requisiti stringenti a livello finanziario per diventare proprietari di un club potrebbero scongiurare gli investimenti esteri, come è avvenuto per il Newcastle o dovrebbe avvenire per il Manchester United. Ma in realtà, se uno non ha nulla da nascondere e ha soltanto un progetto sano da porre in essere, non dovrebbe temere nulla. Diverso è il caso di chi vuole semplicemente investire per puro profitto snaturando quella che è l'essenza di un club di calcio e di una società sportiva. Principio ed identità che si vogliono rimettere al centro, anzi mantenere al centro, e in questo senso dando più rappresentatività ai tifosi. Una riforma sicuramente interessante che potrebbe avere ricadute importantissime anche al di fuori e trasformare ancora di più la Premier League nella vera Superlega o addirittura in qualcosa di alternativo alla stessa Champions League. E da questi white paper si potrebbe giungere ad una regolamentazione statale governativa anche in altri paesi in maniera molto simile. Anche perché se il calcio inglese è egemone e potrebbe addirittura rafforzarsi, gli altri non possono restare a guardare. Come la pensate in attesa dell'applicazione definitiva di queste nuove regole? C'è anche il rischio magari di implosione del calcio inglese, quindi di una riforma in realtà controproducente? Dal mio punto di vista si tratta comunque di novità davvero affascinanti da monitorare perché le cose stanno cambiando e vedremo quali saranno le conseguenze. Grazie a tutti.